Ciao a tutti, ciao a tutti, io sono Mitalandia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è... Storia di fantasia. Ovvero, perché ho tre biglietti per i quali scriverò, venderò una storia. E... Spero che avrete capito e... Cominciamo subito. Bene, cominciamo subito con la prima parola. C'era a volte una bambina che aveva tanto dolore che mi faceva andare in bagno e diceva... quando doveva andare in bagno che... che odiava questa vita e per cui... per cui... decise di... ...dare la... andare... a... trovare... la sua... amica autoressa che aveva un... gatto... e... per dire... con questo problema... come... dissolverlo... e... la... dottoressa... diceva... alla... alla sua amica che doveva... fare delle cure... per una terapia che si chiamava... si... si... che si chiamava... la... la terapia si chiamava... si... e... l'effetto è... il dolore... se ne andava via... bene... e... questo video si chiude qua... quindi... se il video vi è piaciuto... mettete un like... scrivete il mio canale... e... se il vostro video è grigio... sorridete... perché avete... una vita sola... ciao... alla prossima...